L'Ariano International Film Festival si è appresso a organizzare un'ancora più promettente e spavillante seconda edizione nel suggestivo scenario della città di Ariano Erpino, dopo lo strepitoso successo riscosso nella prima edizione. Domenica 22 dicembre alle 17 presso l'auditorium comunale la presentazione della seconda edizione della Kermess alla quale parteciperanno oltre al già noto volto dell'attore Franco Pini in qualità di presidente della giuria anche Angelo Bassi produttore e distributore della Mediterranea Production, Lucia Dispirito redattrice della testata giornalistica TV Sorrisi e Canzoni e il fotografo Francesco Trono. A seguire sarà proiettato il film a quadro, vincitore della prima edizione. A concorrere al premio Ariano International Film Festival come miglior opera, oltre alle sezioni presentate nella scorsa edizione, quindi lungometraggi, cortometraggi, serie web, animazione e cortometraggi scuole, l'edizione 2014 si arricchirà di una nuova sezione, quella dedicata ai documentari. Nel tentativo di appagare le aspettative più diversificate del pubblico, l'Ariano International Film Festival contemplerà la presenza di personalità di rilievo del mondo cinematografico e televisivo, oltre alla consueta presenza del presidente di giuria Franco Pini, offrendo dunque una molteplicità di dibattiti, incontri culturali e occasioni di confronto. Anche nella seconda edizione è confermata la presenza di concorsi interni, quindi quello di fotografia e il concorso cosplay, che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione rispondendo alle esigenze e alle aspettative degli amanti del genere. Grazie a tutti.